benvenuti umani siamo nel castello di radaxian ci siamo appena svegliati ok siamo già bloccati mi spiace ragazzi è quello devo fare così più in alto ma va ok siamo alla ricerca dell'infante egle e dei soldati ancora in vita sappiamo che il peggiorno da qualche parte è nel castello si avuterà a trovarlo sono venuto per questo egle mio fratello allora tu sei Alex il principale che ci portiamo ai suoi piedi grazie per il suo aiuto sua altezza al momento questo è tutto ciò che abbiamo trovato quindi dobbiamo parlare con tutti i soldati e salvare egle igle ma cacchio se è solo che loro hanno visto il martellozzo che ci hanno dato dai perché non lo fa vai la vita ora giù andiamo a ricordarci di sconfiggere anche lo scorpione vabbè forse non serve eccolo egle ora come si fa prima i pesci grazie per avermi salvato è una faccia familiare adesso come lo dici ci somigliamo fratello sono contento di vederti ma sapi che siamo in pericolo da che sta cercando la corona sta cercando la corona reale o no dobbiamo fermarlo a tutti i modi a tutti i modi dobbiamo andare da red di nibbana ci dirà dove si nasconde junkie bobo Alex ho sentito i passi di coseca per i corridoi dovrei sentarlo da solo io devo andare a cercare il nostro padre e la principessa lora è partito alla volta di nibbana il regno di radacton ha fiducia in te fai presto allora ma come c'è tu stai qua a combattere e lui se ne va in giro eh occhio no aspetta vabbè prova al massimo uccidi il pipistrello almeno il pipistrello si scompiglio speriamo che ci sia l'anello lì oh finalmente ce l'ho fatta ora dobbiamo andare giù o tornare su oh aiuto oh oh tu sei matto no ho sbagliato strada tu sei aspetta ha sconfiggito il scorpione questo gioca quei videogiochi capitano non abbiamo trovato ancora nulla ah oh che spavento pensavo fossi il capitano non dirgli che sono qui ma questo livello è davvero difficile e beh non so neanche perché ti sto dando queste spiegazioni ma quindi non questo livello ma quel livello che sta giocando lui mi pensavo questo del castello di Radaxian la fiammetta ci ha distrutto ecco un altro ecco un altro sicuro che si trovano in cima del castello ma lo abbiamo già Lì non c'è modo di andare a destra sì che c'è allora li cosa c'è ucker tutti ho fatto bravo Speriamo che ci dica che va bene Salire di qua Aspetta Non ho ancora delle cose da fare Intanto bisogna parlare con quello Ho sentito il passo per venire Dalla sala del trono Dovrei andare di sopra a controllare Quale è successo Ma ho paura Vai un attimo a vedere tu Adesso se Magari dovevamo parlarci Vediamo un po' No niente Ok Torniamo giù Attento alla fiammetta Prima A questo punto andiamo Vedi guarda cosa fa Alex Eh si Per quello che non salta Ora andiamo tutto a sinistra Che lì c'è il potere Potere Su Su Ho questa mossa da fare Non è facile Se tu sei capace Anche le fiammette Ma Non me la va bene Potere 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 Potendo scegliere Eccolo lì Ok Ok adesso proprio Non saprei Che cosa c'è da fare Ok adesso proprio non saprei che cosa c'è da fare Non saprei che cosa c'è da fare Ma non c'è nulla e non c'è nulla e non c'è nulla che tu possa fare per impedirlo Lunga vita re Janken Janken non sarà mai il re di rada che me ne occuperò io Personalmente Ah maledetto Ti disintegro Al meglio dei tre Eh Al meglio dei tre No non mi ricordo Non abbiamo preso la stella Ma non so se Fa di nuovo le stesse mosse Tru 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 Fa le stesse mosse Pugno Pugno faceva così 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 Adesso cosa farà Perché ne so Metto a caso Faccio così No di nuovo pugno Ma Incredible Adesso sicuro fa carta Sicuro No Non è detto Pum Sì Ora cosa farà Eh farà forbice Può farà pugno Di nuovo Fa tutto È arrivato Sirio Ai 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 Ora Se fai di nuovo carta ti ammazzo Farà pugno Per ricominciare al giro Già Ok Pum Sì È vincessimo Ah no Ora devi sconfiggerlo pure Vieni Sirio Vieni qua A quanto pare così che deve andare Prendi questo Pum 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 Ah queste rosse Sono difficilissime Queste rosse Sono Pum Pum Veri Difficili Come faccio a schivarle Quelle rosse lì Dai che manca poco K K Yeah Era così semplice? Sì Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio Ciao Ciao Pum 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 Grazie a tutti.